Ciao a tutti ragazzi, siamo qui sul canale! Ragazzi oggi abbiamo la seconda parte dell'attaccato di film Oggi ragazzi attaccheremo il geno con le, come le, vedete qua Poi la, e la sferuna La, le, vedete voi, guarda qua Guarda qua, Gigi Buffon La Lazio E il Leccio Quindi so, Genova E la sferuna Juve Lazio e Leccio 5 squadre Ok ragazzi, iniziamo Un attimo la questione Ok 151 152 C'è un'altra 157 160 161 161 162 163 161 162 162 163 162 162 163 secondi. Ok. Poi 168. Pandeb. 170. Poi 171. E raga. E raga. Raga. Ora. Pina Monti raga. Pina Monti. Raga. Pina Monti. Pina Monti. Raga. stories in 72 ora. E ora diamo di sensationsе quiet are a quadro. Amal, Dom Tebos e la speciale è Do Sune e Pantano. Ora andiamo alla seconda di squadra, all'Elasfero 1, ecco qui, scudetto, da qui, poi c'è 181, 182, 183, 186, 187, 191, 192, 194, 195, 192, 192, 192, 192, 202, 201, 202, 212, 212, 232, 242, 242, 243, E ora andiamo alla Rubentos, detta Juventus. Ecco ragazzi, ho ricevuto una chiamata, dei miei amici di su classe, diciamo, Juventus, giusto, alzate fermo, bimbo, dai, dai, bimbo, bimbo, dai. Buonuccio. E' stato feo, non me lo potevo. Ora l'altro, da Gigi Buffon. 243. 246. Poi, 247. Che dico? No. Scusate. Juventini. Poi, do bene ancora. Poi, pianiccio. Poi. Rabbio. Ben, poi. Bernard Desch. Durga Scosta, raga. Di palio di bala. Andiamo dietro, raga. Prima la maglia. Guardate, io prima Buffon, raga. Il 42N. E' per l'ora, lui. CR7. Qui. E poi abbiamo il bus. Raga la, ora raga. La Lazio. Andiamo. Raga la, ora. E' per l'ora. E' per l'ora. E' per l'ora. tracoscia raga l'uiz felipe bavro raga lukaku non c'è è il fratello di lukaku l'uiz felipe 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 l'ultima squadra del video il lecce l'uiz felipe 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 poi ci sono tanti la macchina e la mattina sono 15 attacchiamo l'ultima maglia del video ci vediamo con la terza parte del attaccaggio di figurino e ripeteremo con questa schermata qua ciao raga bella raga